un saluto a tutti voi miei cari amici dei social messo un posto in queste ore ma ho preferito fare il video anche perché io non leggo mai i commenti che vengono scritti sotto i miei video o sotto i miei post non leggo mai perché ognuno è libero di poter scrivere quello che vuole fino a un certo punto si può scrivere quello che si vuole fino a un certo punto io sono da più di 30 anni iscritto all'ordine dei giornalisti di Bari sono regolamente iscritto pago le tasse pago i contributi quindi per quello che posso cerco di fare informazione pura informazione vera vale a dire studio studio e studio l'argomento anche se molti amici mi considerano bravo del settore molti di voi non mi conoscono quindi non sono l'ultimo arrivato assolutamente che io ho lavorato anche per le testate nazionali e lo faccio ancora ma quello che voglio dire è che ho mandato quindi siccome qualcuno mi ha detto guarda che hanno scritto questo 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 ho dato mandato ai miei avvocati di guardare tutti i commenti che ci sono sui social per capire se ci sono gli estremi di querele e denunce per ingiuria e diffamazione aggravata questo che significa che amici miei pagherete se avete scritto e stronzate nei miei confronti offendendo la mia persona e la mia dignità professionale che pagherete caramente quello che avete scritto perché non è possibile al mondo d'oggi avere questa libertà la libertà è vero che abbiamo libertà di pensiero libertà di parola eccetera ma c'è un limite a tutto non bisogna offendere quando una persona fa un video e ce ne sono tante e non sono il classico tipo che esce allora io ho visto che c'è qualche volta giro per esempio sui vari social vedo gente con le tette di fuori eccetera e quelli hanno milioni e milioni di follower eccetera io faccio informazione pura informazione seria faccio adesso gossip e faccio scoop ho fatto per tanto tempo immaginate cronaca nera quando qui c'era la sacra corona unita non si poteva uscire di casa ho fatto cronaca giudiziaria quindi non si poteva uscire di casa perché si sparavano fra uno e l'atto dietro l'angolo quindi ho combattuto il diavolo vale dire amministratori che mi hanno voluto male li ho buttati a terra per dire che non temo nessuno però non ammetto l'offesa della persona e soprattutto della serietà professionale perché io scrivo il vero la questione di gerry scotti è una questione che a me è stata propinata da chi è vicino a gerry scotti non me la sono inventata che poi non la uso nemmeno io perché non ne stanno parlando i giornali anche io mi chiedo il perché io so la notizia e i giornali non ne stanno parlando se è una notizia farlocca non credo che un amico mio che lavora in un giornale di milano mi dia una notizia farlocca mi dà una notizia vera nessuno di voi sa che io ho fatto per un anno un master vincitore di master a mediaset sono stato un anno nei programmi mediaset li ho visti tutti li ho visti tutti purtroppo ho avuto la sfortuna di capitare nella redazione di emilio fede quindi il giorno facevo giornalismo lì il pomeriggio la sera mi dedicavo ai vari programmi a grande fratello all'isola uomini e donne tutti gli altri faceva simona ventura insomma tutti i programmi li ho visti andavo negli altri telegiornali quello di canale 5 dove c'era mi un e c'era toti oggi presidente della regione di gunia che era il direttore di italia 1 il telegiornale di italia 1 quindi non state parlando con l'ultimo arrivato non state parlando con l'ultimo arrivato quindi non permetto a nessuno di offendere la mia persona potete fare qualsiasi commento ma non offendo non capisco perché mi dovete insultare e offendere c'è gente che vive di questo io non ho mai querelato nessuno e non ho mai preso querele soltanto una che poi è stata ritirata per la morte di mio padre scrissi un post poi veramente vabbè ci siamo messi d'accordo per un post di tre righe una querela poi ritirata ma non ho mai querelato nessuno adesso sì siccome comincio soprattutto mi cominciate a conoscere in tanti social prima ero il direttore di un emittente web quindi lavoravo in quell'emittente web top video web tv adesso quindi lavoro come filo prodigo 65 e come aquila scoop vuol dire quindi non permetto a nessuno di offendermi potete fare la vostra battuta positiva o negativa che sia senza offesa senza offendere la persona perché io per fare il video studio di notte di notte prendo tutti gli estremi cerco di somatizzarli metodo metabolizzarli e poi di darli a voi non sto qui a raccontare stanzate per me questo è un lavoro io potrei anche pagarmi per i video che faccio e non lo faccio lo faccio in maniera gratuita perché do delle informazioni gratuite quindi non solamente do delle informazioni gratuite vengo pure offeso di sopra ora no adesso basta l'ho domandato ai miei avvocati guarderanno tutti i commenti tutti i commenti di tutti i social se sono c'è ingiuria e diffamazione e partiranno le querere tanto arriverò tranquille anche se avete dei nickname siete degli hater eccetera vi troverò perché ho trovato l'impossibile ho trovato anche l'uomo nero vi ho detto tutto quindi vi voglio bene mettetemi il segui mi raccomando il segui su tutti i social mettete il segui e seguitemi perché dico cose vere cose con fatti veri alla mano non dico stronzate va bene che sia chiaro per tutti voi voletemi bene vi voglio bene senza offendere persona e dignità professionale amici miei lo dovevo fare mi dispiace lo dovevo fare anche perché c'è gente che non è manco amica vuol dire entra vede il video mio mi offende esce se tu fossi mio amico stessi tra i miei follower io potrei anche stare zitto ma siccome non stai nemmeno tra i miei follower entri tanto per vedere il video ti guardi il video gratuito che io studio studio perdo tempo per poterlo fare e mi offende pure di sopra questo non te lo posso permettere non te lo posso permettere io ti denuncio ti querelo perché posso permetterle ai miei follower quelli che sono i miei follower di dirmi qualcosa qualcosa in più anche qualche suggerimento in più ma persone che non sono miei follower e che credo non saranno mai perché io non ho bisogno di queste persone che mi offendono voglio dire non permetto niente assolutamente niente guardate altri video che meglio non guardate i miei tanto voglio dire posso fare a meno tranquillamente di gente come vuoi che sta lì solo per offendere cosiddetti leoni da tastiera io vi rompo il sedere va bene amici miei vi voglio bene seguitemi alla prossima grazie Grazie.